3-9-2, uno di fuori legge, anche lui, vai! Massa! Stiamo mettendo un po' per allenamento, è in stage! Anche lui dà giù tutto! Jürgen vince! 124, Daniel Perkofer dall'Austria con la Chevrolet Chevelle, che era bellissima! Anche lui, vai! Ottimo lancio anche per lui! Non si risparmia, non risparmia né gomme né motore! Passa Mauro, Mauro Telli, la Brescia! 111! Tutto! Jürgen Eiffel, dall'Austria con la Gran Torino! Contro la Golf di Juri, Juri Kimi! Ottimo per entrambi! Ottimo per entrambi! 215, Mauro Telli con la Bottex Transante 77, a cambio manuale, contro Massimo Vicino con cento di... Massimo Vicino, il poliziotto di Beneguardo che però sta lamentando promuovendo il ponte posteriore da tutto questo weekend, vedremo come sta! Ritardo in allineamento! Di Max! Ottimo, potenza! Categoria 12 secondi a indice fisso, per entrambi ovviamente... Ah!